Guarda che spazi meravigliosi, Massimo. A me questo paesaggio è sempre piaciuto perché qui c'è tutto, c'è la storia antica, la storia contemporanea, il flusso delle civiltà, non lo so, mi ispira questo paesaggio, è per questo che ti ho voluto portare qui, spero che sei contento. E questi passaggi e questi spazi ci ispirano in effetti, attivano delle dinamiche sempre particolari. E io mi chiedo io sempre, ma ad esempio in questo spazio dov'è la fantasiologia, dov'è la fantasiologia? La fantasiologia è ovunque, nel nostro sguardo e nel modo in cui noi approcciamo questi spazi, a come li immaginiamo, a come immaginiamo che siano, a come immaginiamo che possono essere, a come li immaginiamo anche nel passato, a come sono stati. La fantasiologia è praticamente uno studio, un percorso che si occupa della fantasia e dell'immaginazione, però nel senso anche della vita quotidiana, oltre che delle discipline persone artistiche, ludiche, scientifiche, umanistiche, per esempio. E c'è un approccio che è molto leggero, molto dinamico, molto dialogico soprattutto, perché la fantasiologia è pratica, si fa sul campo. E però, io ricordo sempre, da quando eravamo piccolini, fantasi, immaginazioni, sono sinonimi, sono contrari, o c'è un'equivalenza? Perché di solito li trovi sempre associati. Sì, sì, li trovi associati, ma no, non sono sinonimi, soprattutto è da chiarire questo aspetto, sono intesi come sinonimi, ma non sono sinonimi. Tra l'altro la parola immaginazione, nella versione immaginatio, latina, è la traduzione del greco fantasia. Ah, quindi qualcosa di concreto. E quindi non potrebbero essere sinonimi se l'una parola è la traduzione dell'altra, intanto, che poi è solo una delle tre traduzioni della parola del greco. Per come lo intendo io sono delle facoltà complementari, vuol dire che si concentrano sull'immagine, sia la facoltà dell'immaginazione, quindi la facoltà dell'azione, e la facoltà della fantasia, la facoltà del possibile, si concentrano entrambe sull'immagine, ma hanno un modo di guardare queste immagini diverse. Quindi, per esempio, io ho ideato così, per strutturare uno schema di riferimento, per capire come, non come funzioni, ma per approcciare, per… Come lavorano le due realtà. Eh sì, iniziare a capire un po' i percorsi elettivi di queste due facoltà. Io ho racchiuso all'interno della dimensione individuale, per esempio la fantasia, l'immaginazione, la realtà, e la dimensione individuale vuol dire come siamo noi. Ah ecco, il nostro personale. Il nostro, quindi sei tu, l'io, quindi rapporti a te stesso, al mondo che ti circonda. Sì, sì. E poi abbiamo la dimensione sociale, quindi è due o più persone, come vanno a rapportarsi le persone con l'individuo, che ha delle cose da dire. La dimensione individuale e la dimensione sociale, però, hanno un punto di incontro o scontro, dipende da come lo si vuole vedere. Certo. Per esempio, una situazione di incontro e scontro che io lo denomino il paradosso. Dal greco. Sì, dal greco vuol dire andare contro un'opinione. Facciamo un esempio velocissimo. Eh sì. La realtà. Nella dimensione individuale la realtà potrebbe essere il valore che io do a delle cose. Esatto. Dove per cosa io posso intendere un'idea, una sostanza, un oggetto. Certo. Allora io do un valore a questa cosa e ti dico che io passo sempre con il rosso. Fai bene. Passo sempre con il rosso. Questo è il mio valore. Questa è la mia dimensione individuale. Certo. Che può non trovare un riscontro in una dimensione sociale. Per esempio, nel senso comune, io troverò che il senso comune regolamenta. Certo. C'è la legge che ti imponi delle cose. La legge che mi imponi delle cose e mi dirà, Massimo, guarda che tu non puoi passare con il rosso. Questa situazione di scontro che si crea, siamo nel paradosso, perché io vado contro un video. Certo. Questo nell'ambito della legge funziona così, ma nell'ambito, per esempio, dell'immaginazione, della fantasia, quindi dove io ho delle cose da esprimere, come potenziale, come azione che ho in mente, come cose che mi passano per la mente e quindi voglio condividerle. Questa condivisione non è sempre semplice con l'altro e con l'altro a noi stessi. Sì, a volte. Anche noi siamo dei doppi. A volte è così. L'immaginazione e la fantasia per me sono facoltà complementari perché io le leggo, non in modo similare, perché abbiamo visto che non possono essere sinonimi, già proprio da un punto di vista linguistico non lo possono essere. Certo. Lo sono stati, lo sono, andando a verificare, per esempio, i dizionari, li troviamo con riferimenti sinonimi. Sì, sì, sì. Però non possono essere. Quindi viaggiano su due dimensioni parallele. Viaggiano su una dimensione parallela che però ha a che fare con il modo di approcciare a un'immagine. Certo. Per esempio, l'immaginazione io la intendo come la facoltà dell'azione. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra mente noi mettiamo in azione, in movimento, le immagini che conserviamo nella nostra mente. Sì. Quindi come conoscenza, come consapevolezza. Sì, sì, sì. E facciamo un esempio concreto. Abbiamo per esempio questo. Se intendiamo questa figura come un pesce cane, quindi partiamo dal dubbio, no? Certo. Se questo è un pesce cane. Potrebbe essere un pesce cane. Potrebbe essere un pesce cane. E allora io dico che questo è un pesce cane. Che cosa mi fa venire in mente un pesce cane? Che cosa significa per me un pesce cane? Sì. E questo per me è un approccio all'immaginazione perché l'immagine del pesce cane mi collega. Sono delle associazioni che ti fai. Possono essere delle associazioni. Allora l'immaginazione è mettere in moto queste immagini che noi conserviamo nella mente. Allora io dirò per esempio che il pesce cane mi fa venire in mente il mare. Ebbè. Mi fa venire in mente un acquario. Certo. Mi fa venire in mente una disciplina che può essere la zoologia. Mi dà una sensazione che è quella del pericolo. Mi può richiamare Pinocchio. E non la balena. E non la balena. E non la balena. Prima di passare a questo punto qua ultimo. La cosa interessante da dire è che questo è solo un elemento dell'associazione. L'immaginazione invece non è solo un'associazione. Ma è il pesce cane ti fa venire in mente il mare. È un lavoro a tutti gli effetti. Sì ma com'è questo mare? Com'è per te questo mare? Il tuo mare corrisponde al mare suo. Il mare suo corrisponde al mare di un altro. Com'è l'acquario? Tu fai un semplice gioco di associazione. Dici il pesce cane mi riporta all'acquario. Sì ma com'è questo acquario? Qual è l'immagine di quell'acquario? Quindi l'immaginazione ha a che fare con questa azione. Cioè riportare le immagini della mente in movimento. Sì. Ma non si limita a questo collegamento. Sì. Solo che questi collegamenti possono non trovare un riscontro. Ed eccoci a Pinocchio. Perché il mio pesce cane mi fa venire in mente Pinocchio? Difatti. Perché? Perché nell'originale di Collodi c'è scritto che Pinocchio è inghiottito da un pesce cane. Solo che nell'immaginario collettivo. Quindi la collezione di immagini che noi abbiamo ereditato. Oppure che prendiamo senza filtrare nulla. Senza chiedersi perché. Senza chiedersi perché. Se pensiamo alla versione di Walt Disney. C'è la balè. Ed è vero. Ma se pensiamo all'originale. C'è il pesce cane. E quindi diventa forse un richiamo del pesce cane. Il problema è che se io nella mia dimensione individuale cerco di rapportarmi alla dimensione sociale. Con il richiamo al pesce cane. E ti dico. Guarda Giovanni che in Pinocchio c'è solo un pesce cane. Qui la balena non esiste. Ci sarà lo sconto di cui parlavamo qui. Il paradosso. Se invece nella mia dimensione individuale. Io ti avessi detto che questo qui. Sì. È una balena. Tu nell'immaginario collettivo. Sarebbe passata un'informazione. Infatti c'è una condivisione anche. Non c'è solo uno scontro. Ma c'è anche una condivisione. Ok. Chiaro. Questa è l'immaginazione. Cioè mettere in moto quindi le immagini che hai nella mente. Ma non come semplice associazione. Andare a verificare quell'immagine com'è per te. Com'è all'interno di una dimensione sociale. E può essere molto creatrice. Cioè. L'immaginazione. Cioè solitamente si vede l'immaginazione come una semplice riproduzione. Invece no. Immagine azione. L'azione vuol dire che. Già i latini lo avevano evidenziato questo. Cioè un'azione creatrice e inventiva in questa parola. Qualcosa ricostruita da ogni modo. È ricostruibile. E non solo riproducibile. Quindi abbiamo a che fare con la possibilità. Nella fantasia abbiamo a che fare con la possibilità. Perché la fantasia per esempio indaga il senso del possibile. La fantasia è la facoltà del possibile e dell'intuizione. E perché ritrovo l'intuizione nella fantasia per esempio. E non in modo diretto nell'immaginazione. Perché un richiamo. In un riferimento etimologico. E la parola. E per esempio troviamo un richiamo nel sanscrito. Bratifati vuol dire proprio intuizione. E quindi la fantasia va dentro. L'intuizione vuol dire proprio in. Dentro tu eri guardati. Cioè quindi guarda dentro. Guarda dentro intuizione. Guarda dentro un'immagine. Quindi l'immaginazione è come se la figura rimbalzasse. Se il tuo sguardo rimbalzasse sulla figura. Sì. Invece la fantasia entra nella figura. L'immaginazione si interessa del significato. Invece la fantasia si interessa del significante. E per fare un esempio. Ah vediamo. Del modo di approcciare. Diciamo così. Della fantasia. Guarda. Con lo stesso pescicano di prima. Se qui io ho fatto tutta una serie di associazioni. Sì. Ma lasciando i punti interrogativi. Perché non ho esplorato fino in fondo. Per questioni diciamo. Certo. Televisive. Non abbiamo esplorato fino in fondo. Com'è il mare. Com'è l'acquario. Che cosa che ti richiama. Quindi tutta una serie di indagini. No. Anche nel tuo profondo. Eh. La fantasia invece non si occupa più. Di che cosa significa per te. Ma che cosa può essere per te. Questa immagine. Quindi ecco perché. Oltre la semplice associazione. Ecco perché il possibile. E allora. Prendendo lo stesso pescicano. Questo è un gioco. Però è un gioco che almeno. Per quanto mi riguarda. Chiarisce benissimo la differenza. Tra le due facoltà. Che però sono complementari. Perché si danno queste informazioni. Sì. Allora. Sullo stesso pescicano. Non faccio più questo discorso qui. Ma inizio a chiedermi. Che cosa può essere per me. Un pescicano. Inteso come fuori. Allora io posso prendere un pescicano. E lo posso ruotare. Ne isolo un pezzetto. Sì. Lo guardo. Sì. E inizio a concentrarmi su questa figura. E per esempio c'è la pareidolia. No? Le fasmate. Quindi andare a vedere come funziona. Per esempio. Cercare delle figure all'interno di altre figure. E io inizio a vedere che dalla coda di un pescicano. Io ci posso tirar fuori un personaggio di un fumetto. Che è questo. E questa parte qua non è altro che la parte della coda del pescicano. Certo. Ovviamente io l'ho riempito. Sì sì sì. Ho completato questa intuizione. Ma l'intuizione per esempio è ideare un personaggio dalla metà di un pescicano. E allora qual è il possibile? Che questo è solo il mio possibile. Una delle tante possibilità. Eh sì. Ma tu per esempio. Per me potrebbe essere un albero. Per te potrebbe essere un albero. Io sono affascinato e interessato alle fantasticherie. Quindi tu mi hai detto che per te questo potrebbe essere un albero. Io sono contentissimo di questa tua esplorazione. Io sono attratto però dalla dimostrazione. Dalla dimostrazione. Io sono attratto dalle modalità con cui tu puoi farmi vedere non solo i rapporti dell'immaginazione ma anche i rapporti della fantasia. Quindi se io ti dico che dalla coda di un personaggio ne può venire fuori un personaggio. E io e te possiamo conversare così eh. Ha delipito. È bellissimo. Però se poi te lo faccio vedere diventa interessante. Eh sì. Attenzione che quello che ti faccio vedere non è la verità. O meglio. Non è l'unica verità intesa come possibilità. Sì. Perché dalla coda di un pescicano ci puoi vedere valvera. Ci puoi vedere un coniglio. Ci puoi vedere qualsiasi cosa. Quindi abbiamo sempre comunque a che fare con la creazione. Perfetto. Abbiamo a che fare con la creazione. Però la creazione appartiene sia all'immaginazione sia alla fantasia. E in che modo si apporta? Perché la creazione. Basterebbe andare a vedere un esempio sui tanti. Quello che è per esempio l'etimologia della parola creare. Dentro a creare c'è il fare. Ah. E quindi se tu puoi fare, se fai significa che hai il potere di fare. Quindi possibilità intesa anche come potere. Ma potere di aprire un'immagine e di andare a vedere dentro che cosa c'è. E la creazione è associata anche all'azione. C'è quindi vedere quell'immagine che cosa ci puoi creare. Come collegamento. Come esplorazione. Di quelle che sono le tue facoltà. Perché la fantasia e l'immagine azionale appartengono a tutti. A tutti. Sono presenti in misura diverse in noi. Ma diversità non vuol dire io che sono un fantasiologo di più e tu di meno. No. E' equivalente insomma. Diversità nel senso di... Assolutamente democratico. E' di unicità solo. Si. Quindi te sei unici. Certo. E' bello. Poi guardando i disegni. Guardando anche lo schema che hai esemplificato prima. Veniva un po' in mente anche Munari. Fantasia. Rodani. La grammatica della fantasia. Si. E pensavo un po' al rapporto che hanno i tuoi studi. ciò che ti ha preceduto. Quindi anche sul rapporto con la creatività. Pensavo ad esempio, non so, alla pubblicità. Quindi visto che siamo vicini a Riardo eccetera. Pensavo anche a Maria Testa, la pubblicità della Ferrarelle. Oppure una matematica come Emma Castelnuovo. scienziate, musiciste. Tutte persone che hanno comunque a che fare con la disciplina che studi. Si si si. Cioè hanno a che fare. Anche perché la fantasologia cerca di scardinare una cosa che è un'opinione precostituita. Cioè che la donna non sia presente in discorsi riguardanti la fantasia o l'immaginazione. Perché quando si chiede l'opinione di uno studioso. Tu per esempio vai a fare un sondaggio e mi dici il nome di uno studioso che ha avuto a che fare con l'immaginazione e la fantasia. O comunque il nome di un creativo. Si si si. Questa è una ricerca sul campo che io ho condotto. Si verifica sempre il nome di un uomo. Quindi il genio, il creativo sarà Leonardo da Vinci, sarà Albert Einstein. Ma quando chiedi nello specifico qual è il nome di una donna. Il nome di una donna esce forse solo alla quinta o sesta posizione. È tristezza. Ed è una grande tristezza. Ed escono nomi come Montalcini o Montessori. Poi dipende anche dai contesti naturali. Dalla dimensione sociale. Dalla dimensione sociale. Quindi nell'immaginario collettivo la figura dello studioso è un uomo. E quindi il genio è praticamente quello che ha a che fare con la figura maschile dell'immaginario collettivo. Certo. Ma ci sono state donne straordinarie. Certo. 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 Continuiamo a parlare se la donna sia all'interno di questa discussione la diceva sul magismo della storia. Come sia. Certo. 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 Certo.